Bruno, la vittoria di Crotone ha ridato anche alla città, tanto entusiasmo, si torna a parlare di obiettivi importanti, parola d'ordine con il Padova, dare continuità se d'accordo? Sì, abbiamo fatto un'ottima partita a Crotone, un campo difficile che in questo momento della stagione fanno fatica le squadre a fare risultato. Noi siamo andati lì con la giusta consapevolezza, con un atteggiamento giusto e secondo me per larghi tratti abbiamo anche strameritato la vittoria e poteva finire anche con qualche gol di più. Il tecnico Pillon in conferenza ha detto prossimo step obiettivo playoff, il presidente Sebastiani ha detto le prossime tre partite saranno importanti anche per sognare la conquista d'accordo? Adesso la verità sta sempre nel mezzo, quindi dobbiamo essere concentrati adesso sulla partita del Padova e poi dopo preparare le altre partite. Incontreremo sicuramente un Padova agguerrito, non vuole per niente retrocedere, ha fatto una campagna d'acquisto importante, noi dobbiamo dare continuità dei risultati ma di prestazioni, di atteggiamento e questa è la strada da intraprendere. L'abbiamo intrapresa e dobbiamo continuare a percorrerla. Il ritorno di Bruno da Livorno è dimostrato sul campo di poter dare quell'esperienza e quel valore in più necessario, sei contento di questo tuo primo mese? Ma sì, sono molto contento, i ragazzi dello sfogliatoio mi hanno accettato in modo positivo, io lavoro sempre quotidianamente per dare il massimo e do la mia esperienza a disposizione del mister, dei ragazzi quando ora abbiano bisogno di questo. Senza voler fare polemiche, ma hai la parte della tifoseria che dice che è stato un ritorno solo familiare, cosa rispondi? Ma lascio nel tempo che trovano, io ho sempre dato, quando sono venuto qui la prima volta non avevo nessuno effetti con nessuno e quindi mi hanno accettato bene. Adesso questa cosa a molti può dare fastidio però io ripeto, sono sereno con me stesso, vado avanti, lavoro nella quotidianità e metto a disposizione di tutti la mia esperienza.